Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare e verso Pisa, troviamo coda tra il BVA11 raccordo Lucca Viareggio e Pisa Nord, coda in uscita alla barriera di Pisa Nord e ralentamenti tra Pistoia e Lucca Est. In A12 coda in uscita alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. E ancora sulla A15, due chilometri di coda per traffico tra Ulla e l'alacciamento A12 Genova-Rosignano per chi viaggia verso la Spezia. Arriviamo in Fipili, ci sono 5 chilometri di coda per un incidente tra San Miniato e Montopoli in direzione di Livorno, con le attratti per traffico ancora una volta verso Livorno tra Montopoli e Gello. Prima di salutarci per le statali, code per incidente sulla statale 223 di Paganico all'altezza di Monte Pescini, Terme di Petriolo, verso Grosseto e sull'Aurelia per traffico tra Ciacina Sud e Scarlino Scalo in direzione di Roma. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!